Questo ragazzi potrebbe essere una svolta, si tratta di un mini PC di nuova generazione che al suo interno monta le nuove architetture Intel Ultra. Si tratta di processori di ultima generazione anch'essi in grado di gestire l'intelligenza artificiale in locale grazie all'NPU ed hanno anche una parte grafica Intel Arc sviluppatissima in grado di competere persino con di PC da gaming. E questo modello specifico di B-Link non è ancora in commercio, monta l'Intel Ultra 5 125H, 32 GB di RAM DDR5 divisi in due banchi, mezzo terabyte di SSD, connettività di ultima generazione con una vastissima dotazione di porte. Insomma, si tratta di una macchina potenzialmente fantastica per un uso a 360 gradi, dall'ufficio alla navigazione, al gaming, all'editing di foto e video, in modo anche molto, molto spinto e professionale. Un prezzo tra l'altro accessibile, compreso tra i 500 e gli 800 euro. Quindi, cosa facciamo ora? Lo colleghiamo e vediamo subito come funziona. Non ci resta altro da fare che avviarlo, ma non funziona. Ebbene sì ragazzi, c'è un piccolo problema, questo mini PC non funziona. O meglio, si è avviato la prima volta, l'ho configurato, ho installato due programmi, anche 3D Mark, ed è andato in modo spaventoso. Avrei voluto farvelo vedere in diretta, ma al secondo riavvio non funziona più ragazzi. Non so se è l'alimentatore che ha cessato di funzionare qualcosa interna, lui non si è mosso da qui, eppure non funziona più. Capisco che si tratti di marchi cinesi, quindi non possono essere affidabili come marchi più importanti, però mi sembra davvero assurdo, anche perché il prezzo tra i 500 e gli 800 euro non è una sciocchezza. Quindi, cosa mi combini, Beelink? Vi mostro anche che il caricatore è collegato alla presa di corrente, a cui è collegata anche la stampante 3D che ora è accesa, e lui è collegato. Ma non si accende, qui c'è un LED che dovrebbe illuminarsi, ma comunque non c'è nemmeno segnale video. Boh ragazzi, non so davvero cosa dirvi, ero davvero ansioso di portarvi contenuti dedicati a questo mini PC, ma più nello specifico a questa nuova famiglia di processori, e non funziona. Mi sembra, mi sembra assurdo. Ora cercherò di capire meglio cosa è successo, se è una questione di alimentatore o qualcosa di interno, e vi aggiornerò, penso. Ma vabbè, questo fa parte del mio lavoro, ed è giusto che io vi mostri anche quel che non funziona, oltre a quel che funziona. Quindi, spero abbiate credito questo video ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Se Billing sta guardando questo video, mi dica come muovermi, perché io ovviamente non posso lavorare in queste condizioni. E nulla, potete lasciarmi un bel like per supportarmi, condividere questo video ai vostri amici, e iscrivervi al canale, che conta già oltre 107.000 iscritti. Grazie a tutti, e torno a perdere la giornata su questo cosino. Alla prossima, ciao ragazzi!